Ciao a tutti amici di youtube, io sono Travata91, sono qui sulla mia macchina perché sono le 7 di ieri di martedì 23 aprile sono qui vicino all'arcade di Melso dove ho prenotato come ben sapete i biglietti per Avengers Endgame e adesso mi sto approcciando ad andare a vederlo e ho intenzione di fare come feci un paio di anni fa con IT di fare prima dell'effettiva recensione lunga e dettagliata di dare giusto dei pareri a caldo subito dopo la visione del film quindi niente adesso io vado a vedermi, vado a farmi la maratona Avengers Infinity War e Avengers Endgame e poi appena tornato a casa farò velocemente il video sulle impressioni a caldo e lo posterò immediatamente così appena svegli ve lo potrete guardare, detto questo io mi accingo alla visione, vi saluto e non vedo veramente l'ora ok ragazzi, è finita, mi sono fatto la maratona, mi sono visto sia Infinity War per la quarta volta al cinema tra l'altro primo caso di film che veda così tante volte al cinema e mi sono visto per la prima volta Avengers Endgame prometto niente spoiler, impressione velocissima a caldo, è un film estremamente soddisfacente ed estremamente deludente allo stesso tempo ci sono dei momenti in cui mi stavo facendo facepump pensando no ma perché stanno facendo questa cazzata e altri in cui pensavo oh così si fa questa cosa è veramente bella e non è che ci sono certi aspetti che non funzionano e certi aspetti che non funzionano ogni aspetto del film ha una parte che funziona e un'altra meno per dire se si tratta nel dettaglio c'è un personaggio che secondo me ha alcuni dei momenti peggiori e alcuni dei momenti migliori del film e tutto il film è così, è altalenante quindi il mio giudizio è abbastanza sospeso e pensavo di fare la recensione già domani no, devo prima vedermelo almeno una seconda volta non so quando ci riuscirò ma non aspettatevi una recensione dettagliata prima di un bel po' di tempo perché devo metabolizzarlo bene e regalarmi una seconda visione quindi ve lo consiglio comunque sì perché è la fine di un ciclo e va quindi visto anche solo per questo è un evento generazionale e va trattato come tale ma dovendolo giudicare a livello qualitativo per quel che mi riguarda Infinity War ahimè lo supera dico ahimè perché a me Infinity War era piaciuto tantissimo e speravo che questo film fosse all'altezza e ripeto ha dei momenti che sono all'altezza e altri invece no quindi è un sì ma con più di una riserva, un'occasione sprecata, un vero peccato comunque andatelo a vedere perché ripeto se alcune cose potrebbero deludervi altre ugualmente vi soddisferanno grazie a tutti